Quattro giorni di festa per San Caloggio e Rapportempedocle. Anche la città marinara ha riabbracciato il suo santo nero dopo tre anni di restrizioni e rinunce imposti dalla pandemia da Covid-19. La festa nella cittadina di Camilleri si svolge come da tradizione la prima domenica di settembre e da partire dal giovedì precedente. Tutto iniziato con l'uscita del simulacro dalla casa del portuale. Nei giorni successivi San Caloggio ha fatto visita ai vari quartieri a eccezione di Contrada Ciuccafa, troppo lontana da raggiungere con il simulacro in spalla. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di festa, la processione fino alla centrale Enel e poi i tradizionali giochi pirotecnici. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre. Ieri, domenica 4 settembre, ultimo giorno di settembre, ultimo giorno di settembre.